Buonasera a tutti ragazzi, allora intanto sono arrivato quasi alla conclusione del corso di Emilio che ringrazio nuovamente è un corso veramente che senza parlare dei dettagli ti fa aprire gli occhi in altre situazioni in situazioni che poi ovviamente uno che magari conosce bene il calcio, insomma l'occhio ce l'ha e qualcosa lo capta però fa notare questo corso qui di match analysis che veramente per analizzare bene 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 una partita non basta perché poi io la guardo a tifoso, da appassionato della Juventus e quant'altro quindi lì la vivi più con il cuore, con la testa e la logica bisognerebbe rivederla dopo al rallentatore, fare avanti e indietro con il play lì e analizzare tutte e tutte le situazioni che appunto sto imparando e stiamo imparando appunto noi che stiamo seguendo il corso di Emilio che appunto ringrazio nuovamente perché è veramente un corso fatto ad hoc e anche i punti che potrebbero essere un po' pesanti tra virgolette lui li fa veramente molto fluidi e mi dispiace che io spero ovviamente che Emilio faccia, a differenza di qualche giornalista che si mette su Youtube, infangano Youtube e poi si buttano su Youtube però è a differenza anche di altri Youtubers che fanno i fenomeni e dicono di sapere di calcio io veramente spero che gente come Emilio faccia più iscritti, molti più iscritti perché? Perché per me gente che sa veramente di calcio e gente che soprattutto lo vive ogni giorno perché è il suo lavoro merita sicuramente di più rispetto ad altri che fanno finta di sapere di tattica o cose del genere e magari non hanno nemmeno mai giocato a calcio questo è il mio punto di vista vabbè, chiusa parentesi allora, parliamo di Sarri Sarri ha detto parecchie cose però ci focalizziamo su quello che ha detto su Dybala ma non solo su Dybala ma su quello che per me ha fatto capire cioè, lui ha detto Dybala può giocare da falso 9 quindi falso 9 significherebbe giocare con 3 attaccanti ma potrebbe giocare e questo sarebbe per me il sistema di gioco migliore Dybala centrodestra quindi seconda punta di fatto al fianco di Ronaldo ad esempio e con un trequartista dietro che potrebbe essere Bernardeschi dato che stravede per lui e ha detto che deve specializzarsi in quel ruolo lì Bernardeschi in conferenza stampa di presentazione però potrebbe essere anche Costa o se no Dybala potrebbe fare il trequartista il vero trequartista non quello che fa la mezzala e il finto trequartista come ha fatto con Allegri che partiva da 70 metri il vero trequartista quindi insomma, deve fare da raccordo vero tra centrocampo e attacco quello che dico spesso pure io quindi quando insomma un allenatore con tutta quella gavetta di fatto dice molte cose di quelle che alla fine riporto spesso adesso non è che però mi fa felice perché significa che qualcosina capisco vabbè comunque a parte questo allora sapete benissimo che per me ma questo è un discorso soggettivo Dybala a far Sonueva è molto difficile nel senso che non ha il fisico ad esempio che ha Mertens è molto molto difficile però può farlo cioè per me più che altro Sarri lo vorrà soprattutto testare perché ancora deve vederlo di persona e quindi queste sono solo teorie che si fa pure lui però a parte Dybala sì o no adesso magari poi stravolge tutto fa con 4-2-3-1 fa con il 4-3-3 questo non lo so però da quello che riporta lui ok anche se il centrocampo a2 non è che lo ami tanto però da quello che ha riportato lui oggi da quello che fa capire lui vorrebbe usare o comunque puntare inizialmente quantomeno nel sistema di gioco che io amo che ho iniziato ad amare con il Milan di Ancelotti con Kakà dietro a Scerchenko e in Zaghi ad esempio che poi si è trasformato però in un 4-3-2-1 l'albero di Natale però inizialmente era un 4-3-1-2 quindi centrocampo a Rombo e appunto potrebbe puntare sul trequartista il sistema di gioco che io amo il 4-3-1-2 e grazie ad Ancelotti appunto con il Milan amo questo sistema di gioco poi ha fatto capire anche nel post partita di Juventus Tottenham quello che vorrebbe lui e questo l'ho imparato anche grazie ad Emilio le varie fasi non possesso parla ad esempio se poteva anche diciamo ipotizzare però non sapevo che insomma fosse così dettagliato il tutto e mi fa piacere veramente di aver fatto di far parte di seguire questo corso comunque da quello che dice Sarri da quello che fa insomma uscire Sarri vorrebbe un non possesso una fase non possesso con un pressing offensivo quindi non difensivo cioè ad esempio Allegri per me faceva una fase di non possesso difensiva cioè erano tutti dietro ad attendere dietro al metà campo a parte magari l'attaccante insomma magari ma neanche Manzucic perché Manzucic tornava quindi anche Ronaldo tornava l'anno scorso quindi però lui vorrebbe se non offensivo addirittura ultra offensivo ma non penso perché l'ultra offensivo significa che alzi il baricentro praticamente sulla metà campo ok limite sulla linea di metà campo e per me questo è un rischio io andrei molto più sulla fase non possesso appunto con il pressing offensivo perché è più bilanzato e soprattutto se ti salta praticamente il primo pressing non è che poi devi rincorrere e rinculare in una maniera pazzesca diciamo che gestisci meglio anche la fase probabilmente di transizione negativa ad esempio quindi invece con il baricentro troppo alto rischi di prenderti veramente delle rinculate pazzesche comunque a parte questo io insomma sono fiducioso per quanto riguarda Sarri ripetiamo e ribadiamo che domenica è stata la prima partita domani ci sarà la seconda venerdì alle ore 13 su Sky ci sarà la terza contro i migliori giocatori di Sud Corea quindi insomma bisogna avere pazienza perché comunque è una squadra tutta nuova ci sono giocatori nuovi c'è lo staff tecnico nuovo c'è l'allenatore nuovo insomma ci sono tutti tutti i giocatori tutti i tesserati nuovi molti tesserati nuovi poi lo staff lo staff scusate oggi hanno fatto hanno cantato un po' tutti le canzoni solite questo Higuain che era gasato ha una voglia matta di rimanere per me quello boh vediamo questo è il mio punto di vista questa è la mia sensazione adora adora perché poi le cose possono cambiare cioè siamo prima della seconda partita se Sarri vede che non andrà bene un certo modo un certo sistema di gioco poi cambierà non è che è scemo capisce insomma quindi è un sistema di gioco che comunque ha provato e ha insomma ha avuto degli ottimi risultati ad Empoli nei tre anni ad Empoli ovviamente la Juventus non è Empoli e neanche Napoli e neanche il Chelsea se vogliamo dirla tutta però per quanto mi riguarda l'idea iniziale di Maurizio Sarri in questo momento è di andare sul 4-3-1-2 scusate e poi appunto ci sono altre cose che poi analizzeremo meglio durante le partite non tanto durante queste partite ma durante magari le prime partite ufficiali anche se non si saprà e non si potranno dare chissà che sentenze ecco però magari fra qualche mese sì però le prime partite potrai potremmo già notare le varie fasi della squadra quindi sarà veramente curioso ecco sono molto curioso però adesso appunto Sarri sembra voglia si è intenzionato a basare la squadra sul 4-3-1-2 inizialmente poi si vedrà e con una fase ad esempio di non possesso sono le uniche cose che adesso possiamo trarre perché sono le uniche cose che ho notato ad esempio domenica c'è stata una fase iniziale della partita di non possesso molto aggressiva e quindi era veramente una fase di non possesso complessi offensivo quello quasi ultra offensivo perché attaccavano direttamente anche il portiere praticamente quindi e quindi questo bisogna considerarlo diciamo sì traiamo delle conclusioni no delle conclusioni brutto degli indizi un po' alla volta adesso abbiamo cioè più che altro io tratto questi due indizi quindi il modo con il quale vorrà fare la fase di non possesso palla Sarri la fase di possesso palla la sappiamo tutti quale vorrà fare però essendo che deve ancora un po' fare entrare dei meccanismi nei giocatori che non sono uguali a quelli che aveva Napoli o quelli che aveva il Chelsea quindi deve anche lui un po' adattarsi ai giocatori questo poco ma sicuro la fase non possesso abbiamo visto appunto come la vuole imporre con un pressing offensivo e poi questo sistema in gioco che potrebbe essere il 4-3-1-2 Di Bala punto di domanda Di Bala probabilmente lo valuterà di persona quando rientrerà dalle vacanze 10-15 giorni lui ha detto a fine luglio entro il 10 agosto potremmo dire qualcosa di più sulla preparazione adesso è troppo presto perché si gioca tanto e ci si allena poco ha detto l'ha detto si l'ha detto oggi quindi e Sarri appunto vedremo insomma Di Bala da quello che io dicevo l'anno scorso io avrei stravisto l'anno scorso Costa trequartista dietro a Di Bala e Ronaldo perché molti dicono sì ma Costa varia troppo non è un trequartista puro ragazzi il trequartista puro se noi prendiamo in considerazione il cacca non possiamo più pretendere quel trequartista nemmeno Isco quando ho giocato trequartista Real Madrid che poi è da due anni che fa la mezzala ed ecco perché lo voglio alla Juventus come mezzala perché comunque è abituato ormai a fare la mezzala sa fare la mezzala ok e perfino Isco non faceva quel trequartista classico che faceva solo il movimento verticale tra centrocampo e attacco ma variava per tutto il fronte della trequarti veniva a prendere palla a centrocampo faceva l'attaccante aggiunto quindi il trequartista prima di tutto deve avere due polmoni così in questo momento nel calcio moderno e ovviamente deve avere le qualità per fare quella e poi soprattutto deve avere testa psicologia ed essere forte mentalmente l'unica cosa che mi preoccupa di Di Bala come potrebbe essere anche ad esempio di Guain qualora rimanesse è proprio questo cioè la debolezza mentale dei due giocatori ecco vabbè ragazzi questo è quanto ci vediamo al prossimo video sempre comunque fino a fine forza Juventus il prossimo video penso sarà il post partita di Juventus di domani alle ore 13.30 su Sport Italia buona serata a tutti di Juventus